A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, io sono Susanna Quaranta, non mi vedete, sono in regia e cerco di non rubare banda alla trasmissione, così siccome già questo webinar ha raggiunto il numero massimo di partecipanti, cerco di fare in modo che Chiara, che è qui con noi stasera, Chiara Spalatro, abbia tutta la possibilità di mostrare quello che farà. Vi dico soltanto che stiamo facendo, da quando sono chiuse le scuole, una maratona di webinar, uno al giorno, per supportare i docenti che hanno bisogno di aiuto per avviare le attività di formazione a distanza. Quindi vi invito a vedere anche tutte le registrazioni di quelli già svolti e anche il programma di quelli di questa settimana. Poi la prossima settimana a seguire stiamo cercando di organizzare proprio una maratona, quindi per dare supporto. e abbiamo avviato anche un corso per chi ha bisogno di chiedere delle domande specifiche, di un'assistenza maggiore, oppure vuole prendere l'occasione di questa situazione abbastanza infelice, però per formarsi sulla didattica a distanza, abbiamo attivato un concorso che si chiama Insegnare Online e lo trovate sul nostro sito. Per ora, rispondo anche gli attestati, in modo che poi vi concentrate solo su quello che dice Chiara. Gli attestati, poi ne parleremo, insomma vi arriverà una mail specifica. Noi gli attestati li mandiamo con giorni di ritardo perché siamo obberati di lavoro e diciamo li mandiamo a tutti gli associati Flipnet che si associano entro la giornata del webinar e che seguono in diretta, non a quelli che vedono le registrazioni. Questa è la regola generale, quindi ora adesso non ruberei altro tempo e darei la parola a Chiara Spalatro che è una nostra formatrice, penso che tutti la conoscerete ma comunque è una bellissima occasione di condividere con lei anche alcune attività che potete fare con i ragazzi a distanza. Chiara, ti do la parola. Grazie Susanna, buonasera a tutti e soprattutto grazie per essere accorsi in così gran numero al mio invito a questo webinar. Allora ho ritenuto opportuno fare un webinar su Google Classroom perché ultimamente mi sono giunte tantissime richieste da parte di tanti tanti colleghi del mio istituto ma anche di altre scuole, amici di Facebook, insegnanti da tutta Italia che appunto mi chiedono qualche consiglio, qualche suggerimento su come usare meglio Classroom. Allora faccio una premessa, innanzitutto va bene, io insegno nella scuola media e uso Classroom come piattaforma per insegnare online solo da quest'anno. Negli anni scorsi abbiamo sperimentato l'uso di varie piattaforme, come insegnante capovolta ho bisogno di una piattaforma didattica per comunicare con i miei studenti, dunque ho questa necessità e ho diciamo appunto iniziato questo percorso già da tempo per questo motivo. Adesso tanti insegnanti si trovano appunto con l'esigenza di dover insegnare a distanza e quindi Classroom è sicuramente un'ottima soluzione. Voglio fare una premessa prima di cominciare, allora Google Classroom è disponibile per tutti anche per le scuole che non hanno la G Suite for Education, noi ce l'abbiamo nel mio istituto quindi tutto quello che vi mostrerò fa parte di un sistema, un sistema organizzato, integrato con Google Drive con un indirizzo mail istituzionale che ogni docente e ogni studente ha all'interno di questa G Suite for Education che è gratuita per tutte le scuole, ma la sua attivazione richiede un po' di tempo ultimamente molte scuole si sono attivate appunto per avere la G Suite in tempi brevi e alcune ci sono anche riuscite, il problema è che bisogna anche fare un po' di formazione per far capire bene innanzitutto ai docenti e poi agli studenti come funziona Classroom che non è difficile, faccio una premessa, ma chi è proprio a zero anche un po' dell'ambiente di Drive voglio dire o comunque di Google in generale avrà sicuramente un po' di difficoltà niente paura però perché cercheremo di andare per gradi e quindi di spiegare tutto con molta molta calma l'ambiente in cui adesso io mi trovo che voi vedete sul mio schermo condiviso Scusami Sara, ti fermo solo un secondo perché non ho detto la cosa più importante che forse chi non ha seguito altri webinar, potete scrivere delle domande nel pannello domande che trovate diciamo alla vostra destra e io poi le porgerò, le riunirò un po' e le porgerò a Chiara quando lei mi dirà che è il momento oppure se ci sono delle cose su punti specifici quindi vi invito a scrivere delle domande, qualcuno lo sta già facendo però lo dico per tutti Sì, chiedo scusa se ogni tanto mi volto sul telefono ma continuano ad arrivarmi i messaggi di colleghi che mi scrivono, non riesco ad entrare perché effettivamente il numero di iscritti è di gran lunga superiore a quello che la piattaforma che ci ospita adesso per questo webinar riesce a gestire Siamo in 500 e se ne sono scritti molti di più, quindi mi dispiace, magari se riuscite a comunicare con i colleghi che non riescono ad entrare però possono guardare comunque la registrazione Entriamo nel vivo perché c'è tanto tanto da dire Allora, come si accede a Classroom? A Classroom si accede attraverso, vedete, le classiche app di Google Io adesso non mostro la mia, diciamo, la home page della mia posta elettronica di Gmail Per questioni di privacy, ma qui nella Gmail, nella vostra Gmail avete appunto queste che sono appunto le app di Google Eccole qua, conoscete bene Quindi quando siete nella vostra Gmail basta aprire le app di Google e cliccare su Classroom E si apre questa schermata che adesso avete, diciamo, condivisa, io ho condiviso con voi Qui ci sono tutti i corsi che io ho creato per la mia classe Oppure i corsi creati da colleghi, infatti potete vedere che ci sono anche altre materie Non solo le mie, le mie sono in italiano, storia, narrativa Ci sono anche i corsi di inglese, tedesco, matematica, geografia, tecnologia e il corso di latino Questi sono tutti i corsi a cui io come insegnante partecipo Alcuni di questi, per esempio italiano, storia, narrativa, sono miei personali Tutti gli altri sono corsi creati dai miei colleghi Che però hanno inserito anche me come co-docente E quindi io li posso visualizzare Posso entrare in questi corsi e vedere che cosa accade Che cosa avviene su tutti i fronti, insomma, sia per quanto riguarda la comunicazione con gli studenti Che per quanto riguarda i compiti assegnati I compiti che gli alunni svolgono, eccetera, eccetera Adesso, sempre per questioni di privacy Ovviamente io non entrerò in questi corsi Ma vi farò vedere un corso, un prova che ho creato E insieme poi andremo anche a creare un nuovo corso Per vedere come funziona Chiedo a Susana di interrompermi ogni qualvolta ci sta qualche domanda Magari un po' specifica, ecco, ma Susana già lo sa Quindi un consiglio che vi do prima di cominciare Chiara? Sì, ecco Chiara, guarda, per un attimo non si è sentito Devi stare attenta che quando, diciamo, vai avanti con qualche applicazione web, eccetera Devi un attimo sospendere di parlare E poi riprendi dopo qualche secondo Perché altrimenti perdono quella parte lì Va bene, va bene Non ho detto niente di particolarmente importante Vi chiedo di seguirmi nel discorso Se volete provare a smanettare mentre parlo, ok Però potreste perdere qualche parte importante, qualche passaggio importante Allora, apro immediatamente il corso prova Per farvi vedere come è strutturato Va bene Allora, troviamo nella parte superiore un menu Eccolo qua Abbiamo uno stream nel quale ci troviamo attualmente Che è una sorta di bacheca, no? Un luogo dove avvengono le conversazioni Abbiamo i lavori del corso, ok? Che adesso io apro, solo per farvi vedere velocemente Poi ci torniamo Abbiamo le persone Cioè le persone iscritte a questo corso E abbiamo i voti, ok? Perfetto Ovviamente essendo un corso fittizio Creato giusto per farvi capire un po' di cose Non è molto carico di materiali o di comunicazioni O di voti, eccetera, eccetera Non c'è quasi nulla Ma comunque si comprende ugualmente Allora, in questa parte di Classroom Nello stream Avviene la comunicazione con gli studenti E vengono pubblicati appunto i post Adesso io scrivo per esempio un messaggio Ai ragazzi Ok, che ovviamente Non mi risponderanno perché non ci sono Ah, ecco Prima di Adesso Ok, il messaggio è andato Ok? Allora, questo è il messaggio che io ho scritto Allora Chi sono le persone iscritte a questo corso? Andiamo subito a vedere perché con queste persone interagiremo In maniera fittizia sempre Per capire bene come funziona Allora, io clicco su persone Ok? Ecco qua Allora A questo corso sono iscritti due studenti Che si chiamano Fata Turchina E Peter Pan Sono ovviamente due Diciamo personaggi immaginari Due account Che ho creato appositamente Per questo Per questo webinar Allora Ovviamente qui voi avrete tutto l'elenco Dei vostri studenti Ma non subito Perché nel momento in cui create il corso Dovrete Invitare gli studenti Allora, se io clicco su Invita studenti Ok Lui mi chiede di digitare un nome o un indirizzo email Siccome io sono all'interno del dominio della scuola Posso O digitare singolarmente il nome dello studente Per esempio se inizio con la Vabbè Ok Ecco Mi dà i nomi di alcune persone che iniziano con la Avete potuto vedere Oppure Non vado avanti ovviamente per non mostrare troppo Oppure Posso scrivere direttamente il nome dei gruppi Quindi se io scrivo, non lo so, classe, eccetera, eccetera Compaiono i nomi delle classi E quindi Il nome della classe significa tutto il gruppo classe Vi sto E quindi cliccando su quel nome lì Io posso Mi compare direttamente l'elenco degli alunni di quella classe E quindi non vi devo ricordare i nomi uno per uno Quindi l'invito per gli studenti può avvenire in questo modo Ma anche in un altro modo che adesso vi dico subito Perché adesso faremo ancora una prova Per invitare gli insegnanti bisogna cliccare qui E il meccanismo è lo stesso Ovviamente l'insegnante ha una Diciamo Adesso io per esempio invito un insegnante che è una collega Eccola qua La invito perché eravamo già d'accordo Dovrebbe essere anche online E vediamo se mi accetta l'invito Eccola qua Vedete qui esce un po' sfocato L'immagine della docente esce sfocata Perché appunto Non ha ancora accettato l'invito Nel momento in cui l'inviterà L'accetterà Comparirà Diciamo nel suo Nel pieno colore Quindi questo mi farà comprendere che ha accettato l'invito Allora Per invitare gli alunni al corso Con questo metodo L'alunno riceve una notifica E quindi cliccando su accetta l'invito Entra nel corso Si può fare anche un altro modo Si può fornire questo codice all'alunno Si può anche ingrandire per vedere meglio Eccolo qua Si può fornire questo codice all'alunno Attraverso altri sistemi di comunicazione E quindi una volta entrato su Classroom L'alunno semplicemente Digitando questo codice Entra nel corso Però per mostrarvi questa cosa qui Devo tornare un attimino indietro E devo tornare nei miei corsi Perché prima di andare avanti Per farvi vedere un pochettino Come funziona la faccenda dei compiti Soprattutto perché credo che sia quella che interessa maggiormente Vi faccio vedere come si crea un corso O come ci si iscrive a un corso In questa che è la home page di Classroom Per creare un nuovo corso come insegnante O per iscriversi a un corso come insegnante O come studente Adesso io la vedo dal lato insegnante Ovviamente perché questa è la mia bacheca Ma poi vi mostrerò anche dal lato studente Basta cliccare su più Allora lui mi propone due soluzioni Crea corso oppure iscriviti a un corso Io clicco su crea corso Ok? Quindi vado a creare un nuovo corso E lo chiamo webinar Ok? Metto qui il nome della sezione Ovviamente qui metterete il nome della materia Metto qui il nome della classe Per esempio seconda G Il nome della materia se voglio lo metto Altrimenti insomma non compare nella schermata principale Comunque lo mettiamo così per Mettiamo una materia a caso Ok stanza non mettiamo nulla Creiamo il corso Ed ecco che il corso appare nella nostra Home page Dovrebbe apparire Aspettiamo un attimino Sta macinando E dovrebbe apparire Allora una volta creato il corso Possiamo quindi invitare come Eccolo qua Possiamo cambiare l'immagine del profilo Possiamo caricarne una per personalizzare Ma non sono queste le cose importanti Questo è un nuovo corso Questo è il codice del corso Ripeto si può mandare agli alunni In qualsiasi maniera Ma il modo più efficace per invitarli È quello di andare qui Allora adesso io voglio invitare Peter Pan E Fata Turchina Ok? Mando l'invito E vi faccio vedere come Dal lato studente Vedono l'invito che ho appena mandato Allora qui In queste linguette Questa è appunto La bacheca di Fata Turchina E questa è quella di Peter Pan Se io vado nella loro home page Ok Ecco Vedete Il corso che ho creato adesso Webinar Questa è la bacheca di Peter Per esempio Lui può rifiutare Oppure iscriversi E quindi cliccando su Iscriviti Peter Pan Sarai iscritto al mio corso C'è il nome del corso C'è la classe E c'è il nome dell'insegnante Quindi adesso Peter Si va ad iscrivere al corso Ecco qua E la stessa cosa Facciamo fare anche a Fata Turchina Ok? Iscriviti Quindi questo è molto semplice Lo stesso meccanismo avviene anche Tra docenti Perché ovviamente I docenti si possono anche Iscrivere a corsi Creati da docenti Per docenti Ok? Allora Torniamo Nell'altro corso Non in questo Perché lì ho preparato Già dei materiali Poi magari questo Lo utilizzeremo Per qualcosa altro Quindi Vado sul menu Come avete visto Qui a sinistra Vado sul menu E Scelgo Il corso prova Quello di prima Dove eravamo prima Ok? Allora Per quanto riguarda persone Allora Abbiamo già spiegato Il funzionamento Ecco la collega Non ha ancora accettato l'invito Ma fra un po' Lo accetterà Mi auguro Questo è molto importante Volevo dire Perché Permette agli insegnanti Che sono in co-docenza Facciamo l'esempio Con gli insegnanti di sostegno Per esempio O anche materie Che insegnano In compresenza No? Insegnanti che hanno Appunto Delle compresenze Di lavorare insieme E Dobbiamo anche ragionare Per esempio Per quanto riguarda Gli studenti Anche in ambito Di classi aperte No? Perché non è detto Che dobbiamo per forza Avere un corso Che corrisponde a una classe Ma possiamo avere Anche una classe Con ragazzi Di vari Provenienti da varie classi E il mio caso Perché per esempio Non so se avete notato Nella mia barcheca Ho un corso Che è il corso di latino Al quale appunto Sono iscritti Anche ragazzi Di altre classi Adesso non voglio Entrare nello specifico Proprio per non Non mostrare I nomi dei ragazzi Allora Torniamo al corso prova E poi ti dico un po' Di domande Che poi magari Passa il momento E non lo riprendo Questo Allora Certo Certo È che comunque Per iscriversi A un corso Il ragazzo Deve entrare In classroom Con il suo account Istituzionale Della scuola Meglio Meglio Oppure Il corso Si può anche creare Con un account Qualunque di gmail Ma ovviamente A quel punto I ragazzi Devono anche loro Avere un account Di gmail E ricordiamo Che per legge Fino a 14 anni In Italia I ragazzi Non possono Scriversi Diciamo Non possono avere Un account Di posta elettronica Personale Quindi tutto Deve passare Attraverso la scuola Di conseguenza Questo webinar Ha senso Per chi Ha già una G Suite a scuola O per chi Ce l'avrà Approssimamente Perché so che Tante scuole Si stanno attrezzando Per questo Ha senso Per chi ha Alunni Che hanno un'età Superiore ai 14 Anni E quali Eventualmente Pur non avendo Un'email scolastica Di g suite Possono chiedere Di creare Un'email di gmail Per poter Entrare Nella loro Classroom Diciamo Anche Diciamo Personale Non scolastica Ecco perché Si può creare Si possono creare Dei corsi Ecco la prof Grazie è entrata E ha E ha accettato Il mio invito Come potete vedere In tempo reale E ha E ha scritto Un messaggio Un commento Al mio Saluto Ok giusto Per farvi vedere Come avviene La comunicazione Quindi dicevo Che si può anche fare In maniera autonoma Indipendentemente Dalla 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 Account scolastico Però Appunto ripeto Non è consigliato Per ragazzi Che hanno un'età Inferiore Cioè non è proprio Consentito Non consigliato Non è consentito Ovviamente Quindi i ragazzi Delle superiori Rientrano in questa In questa fascia Per cui gli insegnanti Delle superiori Potrebbero Eventualmente Se non hanno La G Suite Scolastica Pensare Di aprire Un corso Su Classroom Chiedendo ai ragazzi Di creare Un proprio account Di Gmail Questo Questo perché Adesso lo capirete Quando vi mostrerò Come funzionano I compiti Perché tutto Viaggia Anche attraverso Google Drive Di conseguenza C'è la necessità Di avere Un ambiente Di lavoro Condiviso Con gli studenti Sia per assegnare Che per ricevere I compiti Soprattutto per assegnarli E quindi Insomma Questo è Il limite Tra virgolette Che però Non è un limite Perché Vedrete che Le potenzialità Di Classroom Sono tantissime Che Insomma Ho notato Adesso Negli ultimi giorni Su Facebook Soprattutto Ma Su qualsiasi Canale di comunicazione Che La corsa Ad avere La G Suite Scolastica È veramente Pazzesca Perché Insomma È uno Dei sistemi Sicuramente Più Efficaci È una piattaforma Di quelle Che più complete Ecco Comunque Lo dimostreremo Adesso Passiamo Ai lavori Del corso Perché questa È la parte Che ci interessa Maggiormente Allora Come potete vedere Io in questo corso Che ho creato Un corso prova Ho inserito Due attività E ho inserito Anche due Argomenti Letteratura E grammatica Vogliono essere Solo degli esempi Attenzione Perché poi Ognuno si Va a strutturare E ad organizzare Il suo corso Come crede Come meglio crede Però è importante Soprattutto per chi Ha all'inizio Ricordare Che dividere In argomenti Adesso vedremo Come si fa Le attività Che si svolgono È fondamentale Perché è un po' Come creare Delle cartelle All'interno del corso E infatti È proprio Così Questo che avviene Perché Tutto Tutte le attività Che voi proponete In un corso Vanno a finire Automaticamente In una cartella Che Classroom Crea in automatico Nel vostro drive Dell'account Appunto Con il quale State lavorando In questo caso Per esempio Ecco qua Questa è la mia Vado nel mio drive Questo è il mio drive Della Dell'account Istituzionale scolastico Ok Riconoscete un po' Come Come Diciamo La home page Di drive Va bene Allora Qui ci sono tutte Le mie cartelle Questa Che si chiama Classroom Non l'ho creata io L'ha creata direttamente Il sistema Nel momento in cui Ho creato il mio Primo corso Su classroom Io la apro E come potete vedere Qui dentro Ci sono Delle sottocartelle Che corrispondono Ai nomi Di tutti i corsi A cui io partecipo In queste sottocartelle Adesso io aprirò La cartella Del corso prova Perché le altre Ripeto Contengono dati Che non posso Mostrare Voi troverete Ulteriori Sottocartelle Per esempio In questo caso C'è solo I promessi sposi Con i compiti Assegnati Questi sono gli argomenti Quindi questo è l'argomento Promessi sposi Perché Avete visto Qui ci sono due argomenti C'è anche grammatica Perché non avete trovato Anche la sottocartella Di grammatica Adesso ve lo spiegherò Non appena vi farò vedere Che tipo di compito È collegato A questa A questa cartella Perché dipende Dalla tipologia di compito Ok Facciamo un piccolo passo indietro Dimentichiamoci Quello che vi ho fatto vedere Adesso su Drive Non vorrei confondervi Le idee Tanto poi ci torniamo Va bene? Allora siamo In lavori Del corso Ok Allora Abbiamo la possibilità Di creare Dei compiti Clicchiamo su Crea E vediamo Che tipologie di compiti Possiamo creare Allora Qui leggiamo Compito Compito con quiz Domanda Materiale Riutilizza un post Argomento Riguardo all'argomento Ci siamo Già Slicco sopra Ecco vedete Aggiunge argomento Quindi non lo so Voglio aggiungere Per esempio Geografia Ecco Aggiunge argomento E lui mi aggiunge Un argomento Ecco qua Vedete Ha aggiunto un altro argomento Che è una specie Appunto di sottocartella All'interno della quale Io poi posso pubblicare Tutti i compiti Che voglio Andiamo Al contrario Risaliamo al contrario La lista Riutilizza un post Mi permette Di riutilizzare Un compito Che ho creato In un altro corso Perché ovviamente Un insegnante Che magari ha più Classi E insegna ovviamente La stessa materia In più classi Potrebbe avere necessità Anzi di sicuro Ha la necessità Di riutilizzare Un compito Anche con altre classi Quindi in questo caso Quando clicchiamo su Riutilizza un post Lui Ci propone L'elenco Di tutti i compiti Che noi abbiamo creato Negli altri corsi Che gestiamo Appunto Vedete io non mi soffermo Più di tanto Ma questo è l'elenco E quindi io posso Scegliere uno di questi compiti E riutilizzarlo Riassegnarlo Anche qui Non lo faccio Per il momento Ancora Materiale Quindi posso creare Un Non è un compito Per e proprio In realtà Creo un post Chiamiamolo così Eccolo qua Dove metto un titolo E scrivo Non lo so La rivoluzione Industriale Ok Quindi do un titolo A questa Chiamiamola La lezione Diciamo che questo è Un semplice modo Per condividere Dei materiali Ok Do una Indicazione Di massima Guardate Il video E Prendete Appunti Per esempio Allora non Consideriamolo Un vero e proprio compito No Diciamo che è una È un'attività E aggiungo Del materiale Allora Qui vi mostro Come funziona C'è la possibilità Di allegare Vari tipi di materiali Allora Possiamo prenderli Dalla nostro drive Quindi se io clicco qua Vi si apre La classica casella Che vi si apre Quando appunto Provate ad allegare Qualcosa da drive Quindi potete Cercare Potete caricare Direttamente dal computer Un file Potete inserirlo Dal vostro drive Dal drive condiviso Perché Sarebbero i documenti Condivisi Con me Eccetera Eccetera Allora Quindi questo per aggiungere Da drive Potete aggiungere Oppure anche Per caricare Un file È la stessa cosa O di qua O di qua Di qua Per esempio Si apre la stessa schermata Come potete vedere Perché Cliccando questo Questo tasto Andando su carica Potete selezionare Un file Dal vostro computer E quindi Allegare Un file Dal vostro computer Allora Chiudo un attimino Potete ancora Aggiungere Un link Per esempio Se io voglio Proporre Agli studenti Adesso cerco Un po' Su internet Rivoluzione Industriale Magari Un sito No? Uno qualunque Treccani Adesso giusto Per fare un esempio Vado sul link Innanzitutto Vedo se Ok In quello giusto Copio Il link Torno indietro Incollo il link E quindi Ecco qua Il link Alla lezione Va bene? Posso aggiungere Anche un video Da youtube Se conosco Già Il Flur Lo inserisco qua Altrimenti La cosa molto comoda Posso fare la ricerca E scrivo Rivoluzione Industriale Cerco E il sistema Mi propone Una serie di video Ecco qua Il primo è proprio il mio E io lo allego Va bene? Quindi questo Posso allegare Qualsiasi tipo di materiale Posso anche Creare Io Un Materiale Ad hoc Per questo Diciamo Questa cosa Che voglio assegnare Non lo chiamo compito Perché ripeto Non è un vero e proprio compito Questo È solo Un invio Di materiali Quindi vado su Crea E posso creare Vari tipi di documenti Da allegare sempre A questo Diciamo A questo Non lo chiamo compito Materiale Ok? Allora Chiudo Non pubblico nulla Vi volevo solo mostrare Come funziona Perché in realtà Questo stesso meccanismo Si ripropone anche All'interno del compito Va bene? Quindi non lo salvo Però come potete vedere Pur non avendolo salvato Come sapete Quando si lavora sul cloud I salvataggi avvengono In tempo reale Quindi pur non avendolo salvato Il sistema me l'ha Me l'ha salvato in automatico Quindi mi ha creato una bozza Che io posso sempre Andare a modificare Ok? Quindi cliccando su Modifica Oppure posso Eliminare completamente In questo caso La elimino Ok? E procediamo Con Con mostrare Le altre possibilità Quando clicchiamo Sul tasto crea Per creare un compito Allora Posso creare una domanda Però per il momento Non voglio mostrarvi questa cosa Perché questi altri due Sono più interessanti E rischiamo veramente Poi di sforare con i tempi E di non riuscire a spiegare tutto Allora Un compito con quiz Altro non è che Un compito Mi raccomando qui Di inserire sempre Il titolo Ecco qua Ok? Di inserire sempre Il titolo Di inserire sempre La consegna Ok? Giusto per dare un'idea La consegna Poi insomma In base anche al tipo di compito Che voi assegnate E poi In questo caso Il compito con quiz Il sistema crea In automatico Un modulo Di Google Ecco come potete vedere Lo ha creato in automatico Io lo apro Posso andare Quindi ad editare Il mio modulo Adesso non stiamo Nel dettaglio A spiegare come funziona Il modulo Perché ci vorrebbe Un altro webinar Che molto probabilmente Faremo la prossima settimana Ma Non lo sto qui ad editare Infatti per questione di tempo Che cosa faccio? Elimino il modulo Che lui Mi ha creato in automatico Quando io dico Che voglio appunto Assegnare un compito con quiz E vado ad aggiungere Un altro modulo Che avevo già pronto Che è tra quelli appunto Che io Ho assegnato recentemente Che è appunto questo No? Per esempio Le congiunzioni Ok? Ok Allora questo è un modulo Che avevo già creato in precedenza Lo inserisco qua Diciamo che l'ho creato In questo momento Va bene? Lo apro giusto Molto velocemente Per mostrarvi Come è fatto Ok Ecco qua Ha un titolo Ci sono degli esercizi Scelta multipla Caselle di controllo Eccetera eccetera Non so se ci sono domande aperte Vabbè comunque Il modulo Ok E quindi adesso Io lo posso assegnare agli studenti Vediamo quali sono le opzioni Che ho a disposizione Allora Qui c'è il nome del corso Va bene? Infatti vedete Corso prova Ok Potrei assegnarlo anche agli studenti Di un altro corso Volendo eh Però non avrebbe senso Mi trovo in questo corso A chi lo assegno? A tutti gli studenti? Oppure solo A Fata Turchina? Oppure solo a Peter Pan? Lo assegno a tutti gli studenti Ovviamente questo per esempio è molto utile Nel caso Volessimo Diferenziare Per esempio le consegne Tra i vari studenti Oppure nel caso Volessimo Magari far lavorare Un gruppo di studenti In un determinato momento E un altro gruppo In un altro momento A segnare Diciamo Tracce diverse Nel stesso compito Qui il punteggio Allora posso Ovviamente noi valutiamo Su base 10 Però posso valutare Su qualsiasi base Oppure posso Nel caso volessi assegnare Un compito come esercitazione Mettere senza voto Ok La data di scadenza Allora quello che vi sto mostrando adesso Vale per qualsiasi tipo di compito Quindi diciamo Diciamo una volta Data e ore di scadenza Se la volete inserire La mettete Altrimenti Dipende da insomma Dalle intenzioni che avete La data di scadenza Quindi mettiamo Non lo so Domani No Questo è dopo domani Vabbè L'orario Sempre facoltativo Altrimenti Di default Mette la mezzanotte Inserite l'argomento Che serve per classificare Ovviamente qui non abbiamo storia Come argomento Ma lo possiamo anche creare al momento Ecco qua Ovviamente adesso io Nella simulazione Sto inserendo Anche le materie All'interno di un corso Però se insegnate più materie Vi consiglio di creare Più corsi E' la cosa migliore Quindi ho detto Di creare appunto Un argomento Che si chiama storia E a questo punto Posso assegnarlo ai miei studenti Che opzioni ho? Ho tre opzioni Anzi quattro Elimina bozza Vabbè ovviamente Se l'ho creata Non intendo eliminarla Posso salvare la bozza E riprenderla In un secondo momento Quindi mi posso preparare In anticipo I miei compiti Scusate se guardo In quella direzione Non guardo La camera Ma devo guardare appunto Dove Digito Quindi posso salvare la bozza E riprenderla In un secondo momento Posso assegnare il compito Direttamente Subito O posso Programmare Questa attività Per una Per esempio se clicco su programma Posso programmare Questa attività Per un giorno Ben preciso E un orario Ben preciso Per esempio Quando svolgevamo i compiti A scuola Io normalmente Usavo programmare Le attività E quindi mettevo Un orario E una data In queste circostanze Siccome non abbiamo La certezza Di lavorare In un determinato Momento Orario Con gli studenti Conviene per esempio Salvare la bozza E assegnarla Nel momento In cui magari Siamo collegati Con i ragazzi E vogliamo farli Lavorare Per esempio Il modulo Di Google Io utilizzo molto In questi giorni I moduli di Google E ovviamente Come verifiche formative Perché sappiamo Ci hanno detto Da più parti Insomma Che dobbiamo svolgere Soprattutto verifiche formative In questi giorni In questi giorni Insomma Di forzata Lontananza Dalle nostre aule Scolastiche E i moduli di Google Sono un ottimo modo Per proporre Delle verifiche Formative Poi ripeto Bisognerebbe approfondire Un po' Però Il modulo di Google È in sostanza Uno strumento Per proporre Verifiche autocorrettive Perché c'è la possibilità Appunto Di fare domande A scelta O risposta multipla Indicando le risposte Ecco Lo apro Giusto Per tornarci Un attimo Indicando le risposte Corrette Di conseguenza Alla fine Il punteggio Viene calcolato In automatico Perché ovviamente Il docente assegna Un certo punteggio A una certa domanda Poi c'è anche la possibilità Di inserire domande Aperte In quel caso Le domande Vengono valutate Però dal docente E quindi Bisogna Riprendere i moduli Uno a uno Di tutti gli studenti E andare a guardare Un pochettino Cosa hanno combinato E assegnare Poi correggere Diciamo E assegnare Un punteggio Comunque il modulo Devo dire che anche i ragazzi Lo amano particolarmente Perché è un modo Abbastanza Veloce Per loro E anche Facile Di affrontare Un argomento Anche come spiegazione Non è detto che debba essere Per forza un momento Di verifica Può anche essere Un momento di verifica Appunto come dicevo Prima formativa Quindi non lo so Fate vedere un breve video E proponete un brevissimo modulo Per verificare La comprensione Di quel video O di quel materiale Che avete proposto Da studiare Allora Io Sì Allora Io ti Ti farei Alcune domande Io mi scuso Se magari sono cose Che tu hai già trattato Ma non ho potuto Diciamo Seguire Accuratamente Perché risponde Intanto altre cose Allora Certo Alcuni problemi Riguardano Gruppi Di studenti Come si fa Ad assegnare Delle cose Soltanto Ad un gruppo Ed escludere Un altro Gruppo Sì Poi Allora Scusa Te le dico Così poi Magari fai un discorso Organico Se creo Un blank quiz Come faccio A renderlo Fruibile Agli studenti Ok E poi Un'altra cosa Dunque Cioè Non Hanno inserito I Gli studenti Ma Scusa Hanno inserito I compiti Ma li vedono Non li vedono Realizzati Ma assegnati Cioè Problemi Sulla visualizzazione Dello stato Dei compiti Sì Da parte Gli studenti Molto probabilmente Credo Da parte Gli studenti Alcuni Dicono Che insomma Volevo dire Per tutti Che Magari Chiara Va veloce Per cercare Di 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 coprire Tutte le informazioni Possibili Però Rivedendo La registrazione Potrete poi Seguire il vostro ritmo Quindi Diciamo Considerate sempre Che tutto questo Viene registrato E potrete poi Rivederlo Più volte Allora Chiara Adesso Entri Sì Rispondo Allora Per quanto riguarda I gruppi In realtà L'amministratore Del sistema Della G Suite Crea Dei gruppi Classe Normalmente E quelli Sono i gruppi Diciamo Istituzionali Se Avete bisogno Di creare Dei gruppi Diversi Come dicevo Prima Per chi Fa Un corso A classe Aperte Tocca Aggiungere Gli alunni Al corso Singolarmente Quindi Invitandoli Uno per uno Va bene Oppure A quel punto Lì Conviene dare Il codice Del corso Perché È più semplice Perché Sono gli alunni Che raggiungono Te E non sei tu Che devi Raggiungere Loro Come avviene Quando c'è L'invito Ok Per quanto riguarda L'assegnazione Del compito Vedete Allora Quando io Faccio Assegna Ecco Lui lo sta Assegnando Perché Ho sbagliato Adesso io Perché Era qui Tutti gli studenti Possiamo provare Su un altro Senza problemi Ecco In questo momento L'ha assegnato Vedete Comunque C'era Adesso ne creiamo Un altro Ne creiamo Un altro senza problemi Poi ve lo mostro meglio Comunque c'era In alto a destra La casellina Assegna A tutti gli studenti Oppure A singoli studenti A piccoli gruppi di studenti L'ho già mostrato Questo Susanna Comunque Magari lo rimostro Quando ricreo Un altro compito Quindi queste erano Le due domande Per quanto riguarda La visualizzazione Molto spesso accade Che gli studenti Lavorano Attraverso Un dispositivo mobile Generalmente accade Più dal telefono Questo Che dal computer Utilizzando Un account Che non è quello scolastico E questo accade Anche ad alcuni colleghi Veramente a volte Per chi è ancora inesperto Non si rende conto Di magari Di star lavorando In un account Che non è quello Col quale È iscritto A classroom Ai corsi di classroom Della scuola Di conseguenza Non troverà nulla Perché appunto Come dicevo prima Il drive Il drive Del classroom Scolastico Non è lo stesso drive Del classroom Personale Di chiunque Sia del docente Che degli studenti Il motivo È questo È ovvio Che poi A questa risposta Non posso rispondere In maniera dettagliata Perché molto dipende Anche dal sistema operativo Che si usa Per esempio Perché le app Appunto Vengono utilizzate Cioè hanno Diciamo Meccanismi un po' diversi A seconda che sia IOS Oppure Android Quindi quando i ragazzi Mi chiedono Ma come faccio A cambiare l'account Dico ragazzi Io ho un iPhone Quindi vi posso spiegare Cosa avviene Su quel sistema operativo Come funziona Ma su Android Non lo so effettivamente Ma più o meno Il meccanismo è lo stesso Basta verificare In quale account Si è logato In quel momento Parlo di account Ovviamente di Gmail Allora Io apro Un attimo Anche dal lato studente Questo compito Che ho appena assegnato Ecco Lo stream è stato aggiornato Allora Io aggiorno un po' la pagina Perché Ovviamente Io ho assegnato A tutti questi due studenti Ecco qua Un nuovo compito Eccolo qua Vedete E questo è il compito Questo è quello di prima Non ricordo Ecco qua Lo apriamo Vediamo un po' Allora Rivoluzione industriale Che poi in realtà Ci ho messo Un file delle congiunzioni Non c'entra niente Sto facendo un po' Di confusione Però insomma In generale avete capito Questo è quello che visualizza Lo studente Ok Allora lo studente visualizza così Questa è fatta Turchina Allora apre il modulo Lo compila Adesso noi non lo facciamo Lo compila Mette tutte le sue palline Qui Tutto quanto Alla fine Lo invia Ok Lo invia E L'insegnante lo riceve Adesso io esco di qua Perché Per farvi vedere tutto questo Ho già Diciamo Preparato Un modulo Già consegnato Ovviamente quando Lui lo invia Adesso ci voglio riprovare Ma il discorso è che Siccome ci sono le domande Obbligatorie Devo praticamente Cliccare su tutte le palline Per farvi vedere Che appunto Avviene Come avviene l'invio Eccetera eccetera Vediamo Proviamoci Ovviamente non so A leggere le domande Le ho rese tutte obbligatorie Queste qua Ok Eccetera eccetera Va bene Vediamo che cosa avviene Qui non ci sono domande aperte Quindi Lo studente riceverà In tempo reale Il suo punteggio Parliamo ovviamente Di punteggio Perché Essendo un modulo Il punteggio può essere Su base In questo caso È su base Vediamo un po' Non me lo ricordo Però poi ce lo dirà Alla fine Ok Allora Posso chiedere di inviarmi Una copia di tutte le mie risposte Parliamo sempre dello studente Lo invio E ecco qua Posso visualizzare Il punteggio Che ho ottenuto Ho fatto 9 punti Su 30 Allora Torno nella mia scheda Ecco qua Scusate Ok Ecco qua Allora Torno nella mia scheda Io ho Ho completato il modulo Lo contrassegno Come completato Ecco qua E quindi All'insegnante Arriva la notifica Che io ho inviato il lavoro Torno dal punto di vista Dell'insegnante Attenzione Vado nel compito Che si chiama Rivoluzione industriale Anche se il modulo È È E mi risulta Vedete Uno consegnato E uno E uno Ha assegnato Ok Perché l'altro studente Non l'ha ancora Eseguito Ok Vado su visualizza compito Eh Qua Ok Ecco questa schermata È molto importante Perché è la schermata Di riepilogo Di tutto quello che Avviene Diciamo Nella classe Allora Io ho due studenti Ho assegnato il compito Ad entrambi Il compito era Un modulo di google Eccolo qua Va bene Allora Uno studente Ha consegnato L'altro studente Vedete Non ha ancora Svolto il compito Nel caso del modulo Di google Precisiamo Siccome Non c'è alcun Allegato da parte Dello studente Dove si vedono I risultati Perché tanti Me l'hanno chiesto Allora Si apre Il modulo Da qui O dal vostro drive O da Diciamo Forse è meglio Dal drive Un attimo solo Ecco qua Vado nel mio drive Ok Vado Nella cartella Un attimo solo Allora Vado Nel corso prova Ecco Non l'ha aggiornata Benissimo Ci fa fare una brutta figura Ci fa fare Ok Allora torniamo indietro Un attimo solo Ok Allora proviamo ad aprirlo di qua Ok Allora apriamolo di qua Questo questionario Non riesco a capire Perché non ci fa vedere il risultato Vabbè andiamo avanti Vi faccio vedere un altro Perché era quello che avevo preparato Perché come al solito Poi succedono sempre Gli inconvenienti In tempo In tempo reale Allora Per farvi vedere il risultato Di un questionario Di un modulo Avevo preparato Un altro compito E avevo simulato appunto Il fatto che entrambi Gli studenti Chiudo un attimo questi Avessero appunto Consegnato Il compito Allora torno Nel Nel mio Nel mio corso Ok Apro Il compito Quello di prima Ok Quello che volevo farvi vedere Perfetto Ok Vedete Allora anche qui È come prima No? Allora Apro La frase complessa Ok Allora Questo è il Il modulo Che lo studente Deve Doveva Diciamo Consegnare Uno Consegnato Fata Turchina Ha consegnato Apro la cartella Del compito Questo è il problema Che in questi giorni Purtroppo Succedono questi inconvenienti Vediamo se riesco A entrarci di qua Non so se mi ci fa entrare Se no Facciamo un'altra cosina Perché È un problema Che ho avuto anche oggi Non mi fa Vediamo se riesco a trovare Un attimo Chiara intanto Perfetti di fare questa cosa Ti porto una domanda Gli strumenti Possono fare Lo stesso test Se hanno ottenuto Per esempio Un punteggio basso Allora Allora Un attimo solo Perché cerco Copia Ecco qua Vediamo se il compito È quello giusto Eccolo qua Sì Sono entrata Nel compito giusto Non riesco a capire Perché non me l'ha messo Nella cartella Ma in questi giorni Insomma Qualche piccolo inconveniente Lo stiamo riscontrando Allora Sì Dipende da quello Che decide Il docente Se hanno avuto Un punteggio basso Se si tratta Di un'esercitazione Ovviamente Lo possono rifare Fino a che Non migliorano Il punteggio Questa è una scelta Del docente E in base Allora Dipende dalle impostazioni Di condivisione Che il docente Decide di Appunto Settare Nel compito Io generalmente Utilizzo questi moduli Come verifiche Vere e proprie Sia formative Che sommative E di conseguenza Diciamo Non permetto Di rifare Il compito Cosa vale Come momento Di consegna L'orario Perché Adesso stiamo andando Un po' Su moduli Non è questo L'argomento Del webinar Io Personalmente Lo rimanderei Ma non perché Non voglio approfondirla Questa cosa E perché qui È talmente complesso L'argomento Che bisognerebbe Parlare Realmente Molto Molto Più Tempo Comunque Si può Si può Sia Consentire Una sola Esecuzione Che più Esecuzioni Insomma Si può fare Quando vado in risposte Adesso vado su Individuali Vedete un po' Qui Ecco Fatta Turchina Ha risposto Al compito Diciamo Ecco Questi sono I suoi Questo Non è il compito L'ultimo Che vi ho fatto Vedere Un altro Che avevo Già Fatto Come simulazione Perché Non so Per quale motivo Non me lo fa Visualizzare Ecco Questo è quello Che il docente Vede Ecco Potete vedere Poi Se l'aveste Risolto Anche un altro Studente Qui vedremmo Vedremmo Non so Due Tre Quattro Cinque In base A quanti Sono gli studenti E qui vedremo Tutti i loro nomi E potremmo Appunto Procedere E vedere Appunto Che cosa Hanno Fatto Cosa hanno Risposto Se ci sono Domande Aperte Ecco Come in questo Caso Vedete Possiamo Correggerle No In tempo In tempo Reale Allora Questa è corretta Allora io assegno Il massimo Punteggio Che è due Possiamo Assegnare Anche uno Dipende Da quello Che ha scritto Il ragazzo Metto due In questo Caso Perché la risposta È corretta Anche questa Come posso Vedere È corretta Metto due Anche qui E siccome Appunto C'erano Domande Aperte Alla fine Salvo E ottengo Il punteggio Finale Dell'alunno Che è 20 su 20 Quindi ha fatto L'un plan Ha fatto L'un plan Però ripeto Adesso Non vi faccio vedere Poi dove si va A vedere Su Excel Su fogli di Google Risultati Altrimenti Andiamo In un'altra direzione Perché dobbiamo Ancora tornare A farvi vedere Torniamo sempre Nel corso prova In lavori del corso Come si crea Questa è la cosa Più interessante Un compito Non con quiz Ma un compito Normale Va bene? Allora Si clicca qui È la procedura È la stessa identica Che vi ho già mostrato Come potete vedere Riconoscete questa schermata Ok? Non creerò adesso Un compito Con quiz Perché vi farò vedere Uno già creato Ok? E vado Per esempio In questo Di letteratura Ok? Allora Questo l'ho già creato Il sistema è sempre lo stesso Apro Il compito Va bene Ok? E questa è la scheda Di riepilogo Perché I studenti Hanno in realtà Già consegnato Anche qui ho simulato Quando vado su istruzioni Posso vedere però Appunto Che cosa ho chiesto A questi studenti Ho chiesto di scrivere Il riassunto del capitolo Uno dei promessi sposi Ho allegato Come vi ho fatto vedere Come si fa Ho allegato Tutto il testo Del capitolo uno Allora Questa è la bacheca Diciamo Del compito Dove possiamo Anche chattare Attenzione Perché questa non Corrisponde Allo stream Siamo in un altro ambiente Che potete vedere No? Quindi possiamo conversare O all'interno dello stream Ecco qua Ok? Quindi scrivendo qualcosa qui Generalmente qui noi Scriviamo le cose Di carattere generale Salute iniziali Quando inizia la lezione Parliamo sempre di questo periodo No? In cui Oppure i ragazzi Scrivono dei messaggi Per chiedere delle informazioni Lo possono fare In qualsiasi momento Sia quando siamo collegati In tempo reale Per la lezione Ma anche in altri momenti Della giornata Ovviamente le notifiche Poi arriveranno Se noi abbiamo Le app Le notifiche attivate Sistema delle notifiche Attivato Ok? E per attivare le notifiche All'interno di un corso Si va appunto Sulle impostazioni Qua Da qualche parte Che non ricordo Appunto No comunque adesso Poi vi mostro bene Da che parte andare Ah ecco si va qua Si va qui giù Ecco qua Impostazioni Da qui potete Ecco le notifiche Io ho deciso Di non ricevere Notifiche di email Perché ho talmente Tanti corsi Che poi Non riesco più A gestire il tutto Comunque da qua Per esempio Se voi le attivate Potete decidere Di ricevere notifiche Per varie Tipologie di attività Che si svolgono All'interno del corso Continuiamo a disattivare E torniamo Appunto Al nostro corso prova Allora dicevo Nei lavori del corso Vi faccio vedere Un compito Che è questo Di letteratura No? Lo apro Vado Nel compito Ok? Adesso abbiamo Il lavoro Che hanno consegnato Questi due studenti Allora Fataturchina Ha consegnato Un testo Ha scritto Riassunto Del capitolo 1 Va bene? Ovviamente questo testo L'ho copiato Dall'internet Giusto per mostrarvi un po' Allora Io lo vado a correggere Questa è la cosa Fantastica Veramente fantastica Di moduli di Google E del fatto che si è integrato Con Drive Allora Questa studentessa Mi ha consegnato Un testo Che ha realizzato Con documenti di Google Avrebbe potuto anche Consegnarmi qualcosa di diverso Perché adesso vi mostro Dal lato studente Che cosa avviene Quando viene assegnato Un compito Generalmente Quando io chiedo Di realizzare dei test Ai miei studenti Chiedo sempre Di crearli con documenti Di Google Perché La correzione È più semplice Infatti Quando il docente Apre Il file Di testo Subito Va in modalità Suggerimento Come potete vedere Che non è la stessa Modalità di lavoro Che abbiamo Quando apriamo Un documento Di Google Classico Infatti Quella normale È modifica Cioè significa Che io scrivo Qualcosa Nel testo Vedete Questa è la modalità Di modifica Ok Mentre Il sistema È intelligente Perché Pensa Se il docente Si collega Sul compito Del suo studente Evidentemente Lo fa perché Glielo deve correggere E quindi Va in modalità Suggerimento Che cosa accade Ok Allora Per esempio Qui ci sono degli errori Qui questa parola Non è vivo Ma è bivio Quindi io la seleziono Ok La Sostituisco Con la parola Corretta Ho scritto tutto Maiuscolo Bivio Ecco qua Ok Ecco qua Ecco la correzione Effettuata Quindi Bivio Anziché vivo Ci sono ancora altre parole Ovviamente io potrei fare Diciamo cancellare anche Intere frasi Questa Non va bene La devi togliere Oppure Per esempio Accettare Addirittura i suggerimenti Di Google E quindi Scrivere direttamente così E lui corregge In automatico Minacce Scritto male Ok Eccetera Eccetera Io docente Posso Allora Dunque Intanto chiedono I compiti Che un ragazzo Consegna Sono visibili Agli altri alunni O solo ai prof Ok No Perché adesso E poi ti dico un po' di domande Poi magari Ti organizzi tu Certo Certo Diciamo Si può ripetere Come creare Un compito Si 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 Ci devo tornare Ci devo tornare Assolutamente Perché lo voglio proprio chiarire Perché manca Manca il passaggio Manca il passaggio Certo Lì ci devo ancora tornare Cosa vede lo studente Dopo l'assegnazione Del compito E cosa Va bene Perfetto Allora ti lascio la parola Allora Allora Adesso abbiamo Immaginiamo di aver corretto Il compito di questa Di questa studentessa Fatta turchina Volevo solo finire Di mostrare un attimo una cosa Oltre ai suggerimenti Come potete vedere Posso anche per esempio Selezionare una parola O un intero paragrafo E inserire un commento Sono tutte cose Che chi conosce documenti di Google Sa fare Un commento Tipo Questa parte Va riscritta Non so Ok E quindi commento Va bene Quindi questo funziona Come i commenti normali Quindi va bene Immaginiamo di aver finito Di correggere Posso Aggiungere qui Un commento Privato Quindi scrivo qualcosa Alla studentessa La pubblico E lei riceve Il commento Privato Significa che va solo a lei Allora Come potete vedere Qui Non c'è Il voto Perché questa È un'esercitazione Io l'ho concepita Ci torno un attimo indietro Torno alle istruzioni Vedete Questa è un'esercitazione Io non voglio Dare nessun Nessun voto Va bene Altrimenti ci sarebbe stata La casella col voto Restituirci Significa che lo studente Riceve indietro il lavoro Cliccando qui Vabbè Restituisco direttamente Ok Restituisco E vado a vedere Che cosa accade A Fata Turchina Allora Questa è Fata Turchina Allora Torno nella home Torno in lavori del corso Ecco Scusate Questi sono messaggi automatici Vado nel compito Promessi sposi Visualizza compito Ecco qua Questo è l'allegato Che la ragazza Fata Ha messo Va bene Clicco sopra E vediamo Che cosa succede Come potete vedere Ecco qui i miei commenti Vedete Questo è quello che vede Adesso lo vedete Dal lato studente Quindi L'alunno Poi può Accettare Ok Accettando Il suggerimento Il testo Vedete Prende la forma Corretta Ok Accetto Ok Oppure può anche Scrivere Scrivere Un Non so che cosa Ho combinato Possibile Anche Una 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 risposta Non ho capito Il perché E quindi Questo mi arriva Un po' come Come Richiesta Di Chiarimento A quella che è la mia Correzione Ok Questo arriva al docente Infatti se io Torno poi nel lato docente Aggiorno la pagina Vediamo un po' che cosa succede Perché poi tutti questi file Dove stanno? Stanno ovviamente Ecco vedete Il commento Che ha inserito la ragazza Questi file dove stanno? Stanno ovviamente Nel compito Nella Nella cartella del compito Vedete Questo è il compito Di fata d'Urchina Che sta nella cartella di Classroom Che si chiama Col nome del compito E questo è Ok Ok E questo è esattamente Il compito Io qui sono entrata Da Da Drive Mentre Qui In questo Che poi lo stesso file Identico Questo va bene Dal punto di vista della ragazza Ero entrata Da Ecco qui sono dentro Classroom Quando si è dentro Classroom C'è in alto Qui anche il nome di tutti gli studenti Vedete Tutta la mia classe E posso vedere appunto Che anche Peter Ha consegnato In fondo questa schermata È la stessa Che vedo anche di qua E attenzione Ecco qua Vedete Allora questo è un riepilogo Ok Mentre questo È lo specifico compito Mi posso muovere Tra i compiti Dei miei studenti Con queste frecce Andando avanti e indietro Vedete Quindi Ecco questa è la consegna Di Peter Cosa ha fatto Peter Peter non ha scritto Un testo come la sua compagna Ma magari Peter Non lo so Ha difficoltà E ha preferito Allegare una mappa Immaginiamo che l'abbia fatta lui questa Allora questa è un'immagine Gli studenti possono restituire un compito In tanti modi Dipende da quello che il docente Gli chiede di fare Peter In questo caso Per fare il riassunto del capitolo 1 Ha allegato un'immagine Torniamo alla creazione del compito Perché Adesso vi spiego perché Lo so che sto dicendo troppe cose E che sto creando Forse un po' di confusione in qualcuno E che il tempo è talmente poco Infatti è già scaduto Ma noi continuiamo ad andare avanti Che veramente tutto questo Non si può spiegare in così poco tempo Ecco tutto bene professoressa Peter mi ha scritto Mi ha scritto perché In realtà Peter è nell'altra stanza Che sta aspettando che io gli assegni un altro compito Va bene Peter deve aspettare ancora un po' Allora Torno al lavoro del corso E vi faccio vedere come si crea un compito Un compito Di quel genere Allora Sempre un titolo Chiamo prova Sempre delle istruzioni Va bene Non scrivo niente di particolare Allora Posso fare Quello che ho fatto già prima Quindi aggiungere un compito già esistente Prendendolo dai miei file O dal drive Ok Oppure lo posso creare al momento Quando clicco su crea Io posso creare vari tipi di file come compito E attenzione Non solo un documento Ma anche una presentazione di Google Un foglio di Google Disegni Oppure un modulo Se volessi fare un compito con un modulo Potrei utilizzare l'altro sistema Che vi ho fatto vedere prima Per esempio Io ho già creato Prima un compito Con un documento Lo vado a prendere Che è Anzi Non l'ho creato Lo rifaccio di qua Un attimino solo E un po' di pazienza Perché insomma Ecco Aggiungo un documento Che avevo già creato Per motivi di tempo Allora Eccolo qua I mesi e le stagioni E allego un file Che avevo già pronto Allora In questo caso Sono io che sto fornendo Un file Ai miei studenti Va bene? Quindi non sto chiedendo Come prima Fai un riassunto Di conseguenza Regolati tu Puoi allegare un documento di testo Puoi allegare una foto Puoi allegare qualsiasi cosa Ah Non vi ho detto che anche le foto Anche le foto Scusate Ve lo devo far vedere Anche le foto Lascio un attimo in bozza Questa cosa qui Si possono Correggere Come I testi Semplicemente Aggiungendo i commenti Scusate Torniamo al compito Al compito Di Peter Che non ho corretto Lo apro un attimo Ecco questo Non ve l'ho fatto vedere Allora Se io voglio Per esempio Dire questa immagine Non va bene Seleziono E scrivo un commento Ok Quindi posso Posso diciamo In fondo Commentare E inserire Comunque le mie correzioni Su qualsiasi tipo Di file Ok Questo è molto importante Va bene Quindi ovviamente Il ragazzo Che è Peter Che è lui Eccolo qua Quando va a vedere La correzione Del suo compito Si sposi Ecco qua Visualizza compito Questo è Peter Questo è il compito Che ha consegnato Lui vedrà Ecco non la vede ancora Ma perché non l'ho restituito Eh C'è il dettaglio Non l'ho restituito Ok Ok Torniamo a Peter E vediamo Aggiorniamo indietro Un attimino Per aggiornare la pagina E vediamo Il commento Che arriva in tempo reale A Peter Non gli è arrivato Va bene Come non detto Comunque Vi garantisco Che Che lui lo vede Lo vede Perché l'abbiamo provato Anche con i miei allunni Adesso oggi Non capisco perché Qualche piccolo intoppo Sta accadendo Ok Allora dicevo Prima no Torniamo al compito Che stavamo provando Ad assegnare prima Torniamo ai lavori del corso E torniamo al compito Di prima Questo qua Ok I mesi e le stagioni Allora modifica compito Perché ovviamente Non l'ho assegnato Allora Chiedo ai miei studenti Di Completa Completa la scheda Va bene Allora Adesso Se voglio Che Perché questa scheda È una scheda Dove devono scrivere qualcosa Va bene Se voglio che Questo file Che io ho allegato Giunga A ogni singolo studente Quindi si venga a creare Una copia Per ogni studente Perché normalmente È questo Diciamo che Che facciamo Quando Assegniamo un compito Devo modificare Questa impostazione Questo è fondamentale Allora Se io lasciassi Quello che Di default Il sistema Mi dà Gli studenti potrebbero Solo visualizzare Il file Modificarlo Ma se io scegliessi questa Che cosa accadrebbe? Accadrebbe che I miei studenti Avrebbero tutti Lo stesso file Di conseguenza Non potrebbero Lavorare Ognuno Sul proprio documento Perché il documento È unico Per esempio Questo meccanismo Si potrebbe Adottare Nel caso Volessimo assegnare Un lavoro cooperativo Per esempio Non so Un modulo Una presentazione Di Google Con Più pagine Che gli studenti Devono Diciamo Creare Insieme Assegnando Magari A Varie coppie Il compito Di completare Una Una slide Su un determinato Argomento Non so se Riesco a spiegarmi In quel caso lì Allora dovrei Lasciare Questa opzione Perché I ragazzi Lavorerebbero Tutti Su un unico File Ok? Questo è possibile Poi magari Vi mostro Qualche esempio Invece A noi interessa Che ogni studente Abbia Una sua copia Quindi dobbiamo Creare una copia Per ogni studente E quindi adesso Io la vado Ad assegnare Allora L'assegno a tutti Gli studenti Quello che Magari hanno chiesto Prima una domanda Che riguardava i gruppi No? Io qui posso scegliere A chi Assegnare questo compito L'assegno a tutti Gli studenti Do Dieci come voto Massimo Non do nessuna Data di scadenza Voglio inserire Questo compito All'interno di Geografia Ok A questo punto Io assegno Il compito Va bene E gli studenti Lo ricevono Adesso Scusate Voglio mandare Un messaggio A Peter Perché Deve Svolgere Il suo lavoro Abbiate pazienza Ok Adesso Vedrete un po' Perché Il compito È stato creato Come leggete qua Adesso esiste Adesso Se noi ci colleghiamo Un attimino Chiedo scusa Allora Sul compito Ok Che esiste Clicco qua Lo riapro Visualizza compito Ok Ok È questo il compito Vediamo un po' Sì Dovrebbe essere questo Istruzioni Ecco qua Ok Allora noi vediamo Il lavoro dello studente Allora chiedo scusa un attimo Ok Allora torniamo un attimo indietro Perché Vi voglio far vedere Che cosa riceve lo studente Allora Questo è Lo so che Forse Diciamo Qualcuno può essere un po' confuso In realtà lo sono anch'io In questo momento Perché ho voluto gestire Tre account Contemporaneamente E non è così semplice Perché volevo farvi vedere appunto anche dal lato studente Allora questo per esempio è Peter Ok Che cosa vede Peter? Peter vede che io ho assegnato un nuovo compito Questo compito si chiama prova Ecco qua Allora il sistema ha creato per lui un file Peter non deve fare altro che in questo caso Cliccare su questo file Entrare e lavorarci Ok E alla fine Consegnare Allora questo aggiungio crea È un tasto che avrebbe diciamo utilizzato Nel caso io non avessi allegato questo file Ok Quindi come prima Quando lui ha allegato l'immagine Allora Torno nel mio compito Come vedete Qui risultano due compiti assegnati a questi studenti Ma gli studenti appunto non li stanno ancora eseguendo Non li stanno ancora eseguendo Ecco Non riesco a capire perché Perché non aggiorno Abbiate pazienza Ma oggi con Classroom è un macello Perché anche con Ecco Ecco qua È arrivato È arrivato Ecco Adesso lo vedete no? Prima non si vedeva Adesso quello che vi voglio Vi voglio far vedere Un attimo solo Sto messaggiando con Peter Che è dall'altra parte Perché se ha aperto il compito Adesso io provo ad aprirlo Ecco qua Ok Dovremmo vedere Peter Che in tempo reale Ci sta lavorando Se Riusciamo ad aprirlo Ecco questo è il compito che ho assegnato Adesso teniamo aperta questa pagina Un attimo solo Dovremmo vedere che ci sta lavorando Ok Intanto torniamo Torniamo alla nostra Alla nostra Diciamo Bacheca Poi magari andiamo a vedere un attimino più tardi Allora ricapitolando Nello stream Abbiamo possibilità di comunicare con i nostri studenti scrivendo dei messaggi Vedete Loro rispondono Ok Nello stream Troviamo tutti i compiti che noi abbiamo assegnato Quindi una sorta di promemoria Nello stream troviamo qui le scadenze Quindi anche lo studente visualizza questo E attenzione Anche lo studente nel suo stream del corso Vedete Visualizza le scadenze Quindi ricapitolando Comunicazione Compiti assegnati Scadenze Se vogliamo andare nei lavori del corso Clicchiamo qui e troviamo tutte le nostre sotto argomenti Che sarebbero come delle cartelle Con i vari compiti che abbiamo assegnato Per aprire uno specifico compito Basta cliccare sul compito Ecco qua Visualizza compito E abbiamo un quadro generale della situazione della classe Per In questo caso il compito era senza voto Ok Per Adesso torno indietro Prendiamo un compito con un voto Così magari vi faccio vedere come si fa anche a mettere un voto Vediamo un po' Questo era Non sbaglio col voto Vediamo un po' Visualizza compito Ecco infatti questo era un compito con un voto In questo caso io assegnerò qui il voto Per esempio allo studente In base insomma a quella La correzione del compito che ho fatto E quindi qui assegno il voto E restituisco Di consegno posso anche inserire un commento Ecco qua E restituisco il compito Comunque tutto questo Che all'apparenza può sembrare molto complesso Molto Insomma Veramente Un po' Perché bisogna spostarsi tra più ambienti Ecco anche Non è difficile Se Ci si mette a provare Se volete Diciamo potete sperimentare la creazione di compiti Magari assegnandoli anche ad un solo studente Giusto per fare una prova Oppure anche tra voi potreste in teoria Fare queste queste prove tra docenti Insomma Allora vado a vedere un attimino se Peter Si è messo al lavoro Faccio una domanda Come ti chiedono Come vedi la creazione di un'unica classroom Per tutte le materie La vedo malissimo La vedo malissimo Perché adesso Ripeto Qui stiamo facendo solo una simulazione Io ho messo un po' di materie Qui ma in realtà non è così che funziona Ecco Allora La vedo malissimo Perché Innanzitutto Mettiamo l'ipotesi che Vogliate Non lo so Lavorare anche contemporaneamente No? Non Cioè nel senso Più docenti All'interno di Di un corso Creerebbero solo tantissima confusione Anche nei ragazzi Anche nei ragazzi Il sistema non è concepito per questo Il sistema è concepito appunto Per avere Come potete vedere Vi ho fatto vedere prima Per avere Una Una panoramica Di materie Questa è La panoramica che lo studente Deve avere sotto i suoi occhi Le varie materie Anche perché Come potete vedere Per ogni corso Poi le scadenze Sono elencate qui Nella Nell'anteprima del corso No? Ecco Queste sono quelle finte Che abbiamo messo noi Però queste Vedete Sono quelle vere Che i colleghi hanno assegnato Agli studenti Quindi Questo è una sorta Anche di un po' di calendario Che lo studente ha sotto gli occhi Se ci fosse un solo corso Per tutte le materie Ci sarebbe una grande confusione Io sinceramente lo sconsiglio Non è questa l'organizzazione Che normalmente Sta alla base di classroom Senti Una domanda trasversale Non so se l'hai già detto Si può usare in diverse lingue Se ci sono compiti di lingua Ci sono i correttori Magari attivati Per le diverse lingue Insomma I docenti di lingue Volevano sapere questo Sì Allora I correttori Si possono attivare Per le diverse lingue Perché in realtà I documenti su cui lavorano i ragazzi Sono documenti di Google E basta andare In documenti di Google All'interno del proprio drive E attivare La Ci dovrebbe essere anche La lingua Quindi scegliere Scegliere la lingua Ok Dovrebbe essere Instrumenti Lingua Dovrebbe essere Non ricordo esattamente Dove si va Per impostare la lingua Però Da qualche parte sta In questo momento Non lo ricordo Sì si può impostare la lingua Certo certo Però questo è Questi sono Dettagli che riguardano Più la conoscenza Allora Peter Non sta eseguendo il lavoro Perché si è disconnesso Questa sono io Che correggo Scusate Però Volevo farvi vedere Appunto come in tempo reale Per esempio Il ragazzo Esegue il lavoro Volevamo fare una prova Avevo di là Un aiutante Che mi doveva Però Pare che non riesca A collegarsi Allora Qual era il compito Questo Allora Io lo apro E vi faccio vedere Allora Vedete Questo è il compito Del ragazzo Adesso io Qua Ecco Scrivo qualcosa Però Sono sempre io Quindi non posso farlo Vabbè Scusate Sto facendo un po' di confusione Lo so Ma era per una buona causa Solo che Non riesco a farvi vedere Da più parti Contemporaneamente Quindi Abbandoniamo il discorso studenti Perché Diciamo Quello A noi Adesso In questo momento Ci interessa poco Allora Faccio un riepilogo Generale Ok Ricapitoliamo Allora Crea Compito Titolo del compito Ok Istruzioni del compito Ok Aggiungi Dal proprio drive Se avete un documento Già pronto Un link Abbiamo già visto Un file Se lo volete caricare Dal vostro computer Da youtube Un video Potete anche cercare qui Crea Se volete creare Un qualsiasi tipo di documento Su cui per il ragazzo Poi deve andare a lavorare Per esempio Crea un documento Voglio assegnare Al ragazzo Un compito specifico Scrivo Rispondi A queste domande Ok Non lo so Quando È nato Napoleone Così giusto Per buttarla lì Ok Quindi ho creato Un compito Va bene Il compito Si chiama Napoleone Ok Do un nome Al documento Ecco qua Cliccando qui Va in automatico E questo compito Lo voglio Assegnare Al ragazzo Quindi Vado Ecco qua Non mi dà il titolo Però basta aggiornare la pagina Perché lo dia Attenzione Ok Perfetto Perfetto Questo è il compito Si chiama Ciao Modifica compito Ok A questo punto Lo chiamo Napoleone Ok Qui ho dato le istruzioni Qui ho creato un documento Vedete quando ho aggiornato la pagina L'ha chiamato Napoleone Adesso Domanda Vediamo chi risponde Allora Se io voglio Che ogni studente Risponda Alle domande Che ho assegnato All'interno di questo documento Cosa devo cliccare qui Ovviamente Crea una copia Per ogni studente Crea una copia Per ogni studente Imposto tutte Qua le impostazioni Appunto Del caso Quelle che ritengo Più opportune E infine Assegno Il compito Posso appunto Salvarlo in bozza Posso programmarlo Posso assegnare Addirittura si può utilizzare Anche una griglia Che è una specie di rubrica Dove si possono indicare Inserire vari indicatori Vari descrittori Per quanto riguarda Però ecco qui Non andiamo Ad aprire Perché altrimenti Ci confondiamo ancora più le idee Perché in effetti Capisco che Non è così semplice Il meccanismo Quindi quando faccio Assegno Ci stanno chiedendo Se faremo Un approfondimento Su moduli E siccome sarai Tutti preoccupi Ti lascio la parola Sì 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 Allora L'approfondimento Su moduli È previsto Perché io A dire la verità Pensavo di riuscire A fare molto di più Ma il tempo È veramente poco L'approfondimento Su moduli Ci sarà E penso Che l'abbiamo programmato Per lunedì prossimo Adesso Susanna Magari ci saprà dire Qualcosa di più Dettagliato Di prossimo Comunque pubblicheremo Il calendario E invieremo Le mail a tutti Sì Io Mi scuso se Insomma Un po' di confusione C'è stata Sono Sono consapevole Di questo Però veramente Non pensavo Che il tempo Volasse così veloce Immaginavo di riuscire A essere più Esaustiva In questo poco tempo Perché veramente È proprio risicato Il tempo Quindi ecco Vedete Questo è il compito Che ho creato adesso Ecco Assegnato due studenti Non l'hanno ancora consegnato Questi sono Sono gli altri compiti Che vi ho fatto vedere C'è la funzione Domanda Che è molto carina Però È simpatica Da provare In tempo reale Perché nel momento In cui io creo Una domanda Per esempio La chiamo Allora Anni Allora Faccio una domanda Banalissima Quanti Anni hai Ok Nel momento In cui creo La domanda Gli studenti La ricevono In tempo reale E rispondono Si possono creare Due Ah no Chiedo scusa La domanda va qui Ok Quanti anni hai Queste sono le istruzioni Ok Sbagliato E si possono creare Due tipi di domande Risposta breve O scelta multipla Infatti ecco Qui posso aggiungere Delle opzioni Di risposta Ok Non è il nostro caso Ma posso scrivere Non so Ti sei divertito Divertito Oggi Ok E quindi Posso creare Queste domande Ok E poi assegnarla Alla classe Quando clicco su Chiedi Automaticamente Cosa vedono i ragazzi Vado nello stream Ok Aggiorno Ok I ragazzi Ricevono la domanda Eccola qua Vedete La ricevono qua Ci cliccano sopra E rispondono E consegnano la risposta Questo è un sistema Molto carino Una sorta di botta e risposta In tempo reale Che si può fare Che si può fare Non è la stessa cosa Del questionario Che vi ho fatto vedere Prima con moduli di Google È un sistema Per esempio Per sondare La comprensione Di un argomento Che si sta magari spiegando Oppure potreste Per esempio Assegnare un brevissimo video E preparare una serie di domande Da lanciare al momento Agli studenti Questo è molto interessante Molto carino Funziona Ma il consiglio che vi do Se volete utilizzare Le domande Appunto Crea domanda È questo Preparatevi Una batteria di domande Da mettere in bozza È inviatele Nel momento opportuno Perché è un Talmente veloce Lo scambio Con gli studenti Quando si usa Questo sistema Ve lo dico per esperienza Che non riuscirete A star dietro A loro Ovviamente poi Nella Quando andrete a visualizzare Qua la domanda Quello che voi vedrete Visualizza domanda Ecco Una persona ha risposto L'altra no Vedete questo Cioè Vedrete In questo caso La domanda era Risposta multipla Vedete che Una persona ha consegnato Un'altra no Perché risulta assegnato Quindi non consegnato E vedrete appunto Che Che questa persona Ha risposto sì Qui non c'è una domanda giusta E una sbagliata Siete voi che poi date un feedback Se infatti torno sulla domanda Posso scrivere più un commento E dico Ok Tutto bene Siete voi che date un feedback Appunto Su questa domanda Giusto per chiarire un po' In generale La comunicazione Come dicevo Principale avviene sullo stream Però Vi consiglio Sempre per esperienza personale Di Comunicare Una volta che lanciate Un compito In tempo reale Perché questo In questi giorni sta avvenendo Vi consiglio di Aprire Il compito Come in questo caso Di andare su istruzioni E di utilizzare Per lavorare Con i ragazzi Quindi per scambiare Con loro Con tutta la classe Messaggi Infatti c'è scritto Commenti sul corso Quindi questi non sono Commenti personali Ma sono commenti Che riguardano tutti Di utilizzare Questa messaggistica Ok Quindi E non Quella dello stream In maniera Da non Diciamo Affollare Lo stream Di messaggi E in maniera Anche da Categorizzare Cioè I vari messaggi Di associarli A un determinato tema Qui parliamo Di Napoleone Scriveremo I messaggi Che riguardano Questa verifica Questa attività Nello stream Scriveremo Messaggi Di altra natura E un'altra cosa Che vi volevo Mostrare E che potete Anche rivolgere A un singolo Studente Perché se voi Usate il più E mettete un nome Per esempio Ecco vedete Questo è il singolo Studente Quindi se volete Scrivere una cosa Specifica a lui Rivolgervi a lui Un po' come Succede anche Con Whatsapp O con altri social Potete digitare Dopo aver messo Il più Il nome Dello studente E quindi Scrivere un messaggio Diretto a questo ragazzo Che non è un messaggio Privato Attenzione È semplicemente Un'attenzione Particolare Su un determinato Studente All'interno Del gruppo Mentre state Messaggiando Per quanto riguarda Lo stream Ovviamente Quando voi Aprite una conversazione Chiederete Buongiorno Ragazzi Iniziamo La lezione Chi C'è Dica Buongiorno Ok Scrivo molto velocemente Voi Aprirete una conversazione E i ragazzi Dovranno Appunto Continuare a scrivere All'interno Di questa conversazione Non c'è Una regola Nel senso che Voglio dire Potrebbero anche Iniziare un nuovo post Però Ovviamente Questo significherebbe Che se ognuno Inizia un nuovo post Capite bene Che insomma La bacheca Qui diventa Diventa Un pandemonio Quindi Giorno per giorno Potrete scrivere Un messaggio Di inizio Lezione E i ragazzi Poi si accoderanno Nei commenti E scriveranno Tutto quello Che c'è da scrivere Ovviamente Sui tre pallini Si aprono varie opzioni Che vi permettono Di fare varie cose Sui messaggi Ma anche Per quanto riguarda I lavori del corso Eliminare Riluminare Spostare Spostare giù L'argomento Eccetera Eccetera Io mi fermerei qua Ma Più che altro Perché credo Di aver detto Anche forse Troppe cose E credo Che sia arrivato Il momento Per voi Di lanciarvi Nella sperimentazione E Comunque I miei contatti Insomma Tanti ce li hanno Siamo amici Su facebook Con tanti Saluto i miei colleghi Che sono collegati Di scuola E anche tutti gli altri Ovviamente Vi ringrazio Per avermi Sopportato In quest'ora e media Che siamo stati collegati E chiedo a Susanna Se insomma C'è qualche Sì Allora Diciamo che in questo webinar È successo un po' Come in classe Cioè che alcuni Eh Hanno Cioè questo Questo tipo di velocità Gli andava bene E hanno chiarito Il punto Gli altri Magari Avrebbero bisogno Di Di rivederli Con più lentezza Io consiglio Di guardare La La Registrazione E fermarsi Nei passaggi Chiave Purtroppo Sì Diciamo Questa era una classe Molto Eterogenea Quindi Eterogenea Infatti No volevo anche L'ultima cosa Che ho dimenticato Adesso una collega Mi ha scritto Di quelle collegate È che non ho mostrato La griglia dei voti Giusto mi sono dimenticata La griglia dei voti È molto interessante Perché adesso ripeto Qui non vedete Ovviamente Per ovvi motivi Non posso mostrarvi Quelle della mia classe Ma qui per esempio Vedete Gli studenti Ok Vedete Le attività Eccole qua Vedete Ok E vedete Anche Le valutazioni Che avete assegnato Allora qui c'è un po' di confusione Nel senso che Il voto dove c'è Dove non c'è Perché ovviamente Non l'abbiamo messi Noi abbiamo messo Solo quel voto Prima vedete Il 9 Che abbiamo messo prima Questa è un'attività Che non è valutata Vedete Infatti c'è la spunta Significa che non è stata valutata Queste attività Non sono state valutate Perché non sono andata io A valutarle Insomma Però è interessante Anche avere questo Riepilogo generale Della griglia Dei voti Che all'interno Di ogni corso È possibile Visualizzare E basta Continua tu Susanna Perché volevo giusto Finire questa cosa Che non avevo Non avevo detto prima Allora io direi che Diciamo le domande Sono state tante I complimenti I dubbi Purtroppo è un argomento È difficile In poco tempo O a prendere Tutte queste cose nuove Quindi Comunque vi invitiamo Anche negli altri webinar A partecipare Perché spesso le cose Vengono Diciamo ripetute In varie situazioni Quindi E poi Pensavo di dire una cosa Che avevo letto Ah ecco Dico per tutti Che la registrazione Di questo E degli altri Webinar Si trova sul nostro sito E vi arriverà Una mail Specifica Con il link Quindi Diciamo Non vi preoccupate Non ci scrivete Dove troveremo La registrazione Perché Vi arriva una mail Dove c'è il link Per trovare Tutte le registrazioni Dei webinar Flipnet E poi Per I fan Di Chiara Vi aspettiamo Lunedì prossimo Alla Alla Al prossimo Webinar Su moduli Ok Sarà Tutti quelli Scusate Della primaria Che avevano domande Specifiche Li invitiamo A partecipare Domani All'webinar Sulla primaria Quindi Svolgeremo Svolgeremo Un webinar Specifico Per la primaria Ok Vi ringrazio tutti Per la partecipazione Vi chiedo scusa Per la velocità Ma ripeto Insomma È stata proprio Gioco forza Perché insomma Veramente Da dire C'è tantissimo Vi ringrazio E insomma Sapete Come fare Per contattarmi Anche tramite Flipnet Facebook Eccetera Eccetera E veramente Grazie 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 a tutti Un abbraccio Grandissimo Grazie a Chiara Che ha tenuto Questo webinar Per un'ora e mezza Veramente Una Maratona Nella maratona Ci siamo abituati Ci salutiamo Per questa sera E vi invitiamo Ai prossimi webinar Grazie Grazie Susanna Grazie a te Per l'assistenza Grazie a tutti Buona serata A presto Ciao Ciao Ciao